An Angrigento il mattino di oggi nella sala conferenze della Camera di Commercio si è svolta l'Assemblea annuale di Confesercenti Angrigento sul tema per uno sviluppo possibile. L'Assemblea annuale è un momento... Indubbiamente c'è un primo e un dopo del Covid. Oggi noi riflettiamo sul dopo Covid. Il bilancio è difficile tracciarlo, 25 mesi di crisi devastante che ci portano a discutere di una ripresa, di una ripresa complicata se non difficile perché chiudere è facile. Con una firma su un DPCM si chiude, riaprire e far rialzare le salaginesche, rimettere in moto quella che è l'economia di una città nel caso di Angrigento è un argomento molto complicato. Ecco, noi oggi rifletteremo su questo, rifletteremo su questo patto di condivisione che deve necessariamente nascere con le amministrazioni comunali. Noi ci salviamo dal punto di vista economico se tutti percorriamo un'unica strada che deve portare a quello che è l'obiettivo principe, far riprendere l'economia di una città, far riprendere l'aspetto sociale, l'aspetto economico e la ripresa dell'identità di questa città. Ecco, noi oggi rifletteremo su questo cercando di dare il nostro piccolo contributo d'associazione datoriale. L'assemblea annuale è un momento importante perché ci dà la possibilità di fare un bilancio di quanto fatto negli ultimi 12 mesi, ma è anche un momento per dettare le basi per la programmazione futura. Oggi cercheremo di vedere come, oltre a rafforzare la linea di politica sindacale dell'associazione, vedremo come mettere a punto anche quegli strumenti che l'associazione è in grado di offrire ai propri associati, perché in un momento come questo c'è bisogno di assisterli. Lo abbiamo fatto durante la pandemia anche con un supporto di tipo psicologico. Oggi speriamo di farlo attraverso l'utilizzo delle misure che il Governo nazionale e regionale pongono in campo per poter sollevare le imprese da questo stato di prostrazione. È certo che è possibile uno sviluppo e ci dobbiamo assolutamente credere, perché come associazione che rappresenta imprenditori, imprese non possiamo che guardare avanti in ogni caso con un atteggiamento positivo. Sarebbe deleterio pensare che non c'è più nulla da fare, che è tutto perso e che quindi bisogna arrendersi. Non bisogna assolutamente arrendersi. Bisogna programmare, bisogna sviluppare, bisogna chiedere a chi ci amministra, a chi ci governa politiche forti, importanti nei confronti delle imprese per fare in modo che le grandi potenzialità che questa terra ha, che è sempre la provincia di Regento A, possono compiutamente svilupparsi nei prossimi anni. Quindi chiediamo allo Stato e alla Regione, ma anche ai Comuni, politiche di lungo respiro che incoraggiano gli imprenditori ad investire.